Musica Mi sembra di poter dire dai dati che emergono dal rapporto giovani che la generazione appunto dei ragazzi tra i 18 e i 29 anni sicuramente mostra una fiducia molto bassa soprattutto rispetto al contesto sociale mentre il recupero della fiducia nel contesto familiare è parimenti marcato quindi molta fiducia nelle relazioni più vicine e una scarsa fiducia nelle relazioni del contesto sociale da questo punto di vista quello che in un qualche modo è possibile fare allora è ricostruire provare a ricostruire le generazioni insieme in un contesto sociale che possa invece riattivare la fiducia Quello però che credo che sia importante per le famiglie, per chi si occupa dei giovani è non far venire mai meno la speranza nei giovani che questa fiducia possa essere ricostruita e che le cose possano cambiare con fatica, con investimento ma sarebbe impossibile per questa generazione pensare a una progettualità futura se non potesse avere la speranza che una progettualità è possibile e che un cambiamento è possibile non 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 non